Sono forse le ultime ore in cui ai migranti in arrivo dalla Croazia è permesso il transito sul territorio ungherese. Tutto è pronto al posto di frontiera di Beremend per la chiusura dei confini, vagheggiata da Budapest negli scorsi giorni. L'installazione delle barriere metalliche è stata ultimata anche in corrispondenza della regione croata della Podravina. All'Ungheria, che innalza ponti levatoi e si prepara a blindarsi con il filo spinato, le autorità di Zagabria replicano sempre più stizite con l'invito ad affrontare la questione altrimenti. Il problema deve essere affrontato in Turchia e in Grecia. A chi suggerisce di mandare l'esercito ai confini dell'Ungheria con Croazia e Serbia rispondo che vanno piuttosto inviate delle navi in Grecia. Zagabria è comunque già a corsa ai ripari e assicura di aver stretto accordi con la vicina Slovenia per reindirizzare sul suo territorio i migranti a cui fosse impedito il transito in Ungheria. Rotte alternative, l'urgenza della cui apertura è confermata dai numeri che rimbalzano dal sud della Serbia. Tra 6 e 7 mila, gli arrivi dalla Macedonia registrati al confine di Presivo solo nelle ultime 24 ore, tappa successiva e poi la Croazia, ma con erigersi di sempre nuove barriere l'arrivo in Europa occidentale è diventato per molti un vero percorso ad ostacoli.